Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Lunghe code in entrata e in uscita dalla città di Fano all'altezza di Gimarra e il semaforo finisce sotto accusa Le rotatorie cambieranno aspetto Il comune darà ai privati la manutenzione del verde e lancerà un concorso di idee per quelle più importanti Nel quartiere Poderino il parco giochi per bambini nel degrado e le mamme protestano Celebrata anche a Pesaro la giornata dell'unità nazionale Italia-Polonia, Fano scende in campo la nazionale di calcio amputata Liga Bue non ce la fa, assalta il concerto di Pesaro e annuncia Mi devo operare alle corde vocali Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Cominciamo subito con il telegiornale Il problema delle code in entrata e in uscita dalla città di Fano In particolare negli orari di punta all'altezza di Gimarra E sotto accusa finisce un semaforo Vediamo quale L'università di Urbino nello studio socio-economico elaborato per Orizzonte Fano Ha evidenziato che 17.000 persone escono da Fano per lavoro e studio E di queste 6.280 migrano verso Pesaro Quelli che si spostano per lavoro, quasi la totalità, lo fanno in auto Di qui si intuisce che tolti alcuni passaggi nell'Interland Una grossa mole di traffico gravita sulla direttrice principale La statale 16. Ed uscendo da Fano in direzione Pesaro L'ultimo semaforo, quello a ridosso della Gimarra E' l'ultimo passaggio cruciale Una cruna d'ago da dove, ob torto collo, bisogna passare Innumerevoli le segnalazioni che da tempo ci allertano Sulle code e i continui rallentamenti Che a cominciare dalla rotonda della liscia Si susseguono nelle ore cruciali della giornata Che vengono definite di punta Ci si mette anche 15-20 minuti per uscire dalla città Ciò che permette alle persone che abitano nel quartiere Di riuscire ad imboccare la nazionale Senza interminabili attese In realtà crea, come ci dicono gli operatori del luogo In cresciose situazioni Basta che succeda un minimo incidente Che già si forma la coda Sia lato Fano che lato Pesaro I vostri utenti si lamentano di questo semaforo? Molto, molto Ciò che è molto utile nel periodo estivo Infine, come il semaforo del parcheggio dell'edicola Frequentatissimo d'estate Ma praticamente deserto d'inverno Crea, per la temporizzazione che ha Fonte di rallentamenti che affliggono eternamente i viaggiatori E neanche a farlo opposta Questa mattina intorno alle 8.20 Proprio sulla nazionale Agimarra Nei pressi dell'ex scuola alimentare Si sono formate lunghe code A causa di un tamponamento multiplo Senza feriti che ha visto coinvolte Quattro auto che procedevano in direzione Pesaro-Ancona Vista la chiara dinamica dell'incidente Le persone coinvolte hanno effettuato La constatazione amichevole Pertanto l'intervento della pattuglia Della polizia locale è stato Indirizzato a regolamentare il traffico E le code che si erano inevitabilmente formate E la troupe di Faro TV Questa mattina Seguendo un po' anche le vostre segnalazioni Che come vedremo nel corso del telegiornale Sono anche questa sera numerose Per questo vi ringraziamo come sempre Dicevo la nostra troupe È andata nel quartiere Poderino Per verificare i segni di degrado E di scarsa manutenzione In un parco giochi per bambini Un piccolo triangolo di verde pubblico In mezzo a tanti palazzoni abitati Uno sfogo ed una manna Per mamme e bambini Che in mattinate assolate Nel pomeriggio Portano i loro piccoli A giocare A socializzare Con altri coetanei Se non fosse che Sedersi su una panca È praticamente impossibile L'altalena Per i più piccoli È inutilizzabile Ed il cestino viene usato Per metterci di tutto Tranne che le cartacce Compreso il palo dell'insegna Insomma una situazione Che i residenti denunciano Da tempo al comune E vengono liquidati Con il solito ritornello No fondi No manutenzione L'altalena è rotta da diversi mesi Ci sono dei ragazzi Che abitualmente sostano qua E che non usano i bidoni Dell'immondizia Anche se sono presenti Quindi c'è molta sporcizia Ci sono i vetri rotti Eccoci Basterebbe poco Per tenerlo meglio Voi che ne usufruite Insomma vorreste Che qualcuno ci mettesse mano Sì Sarebbe Sarebbe bello Perché se venite a fare Una ripresa al pomeriggio Vedete che è pieno di bambini Anche perché di spazi verdi A Fano ce ne sono pochi Quindi se quelli che ci sono Fossero tenuti in maniera decente Sarebbe Sarebbe meglio per tutti Soprattutto per i bambini Ma il triangolo verde Non è il solo opposto Del quartiere Lasciato al suo destino A pochissima distanza Dal fazzoletto di terra In fondo a via tagliamento Una pista di pattinaggio Mostra tutti i segni Dell'incuria Del passare del tempo Cancello di velto O assente Zone transennate Arrugginite Se non addirittura Sradicate E gettate Da un lato E le erbacce Che la fanno da padrona L'impianto Che ospita La piscina Dini Salvalai Nel quartiere Di Sant'Orso Da un po' di tempo Senza acqua calda Però La dirigenza Rassicura Gli utenti Vorrei assicurare Tutta la cittadinanza E l'utenza Della piscina Di Fano La Dini Salvalai In relazione Alle uscite Che ho visto Sul giornale Su alcune civette In edicola Dove si faceva riferimento A problemi Di acqua fredda E veleni Presso la piscina Dini Salvalai Vorrei assicurare a tutti Che veleni Non ce ne sono L'acqua fredda Ne dolce Purtroppo sappiamo Che è determinata Dalla caldaia Non più funzionante Al 100% Ormai da ottobre Anzi novembre Del 2016 Comunque A nostre spese Del gestore Ci siamo fatti carico Di un nuovo serbatoio Di uno scambiatore nuovo Un accumulatore di acqua Da mille litri Che consentirà Di avere acqua calda Per tutte le docce Sia della piscina Che della palestra Contemporaneamente Scaldiamo anche L'acqua in vasca In piscina Quindi Riusciamo a tamponare Il problema delle docce Per la caldaia Comunque Siamo fiduciosi In una collaborazione Della comune E della provincia E anche a Pesero Oggi è stata celebrata La giornata Dell'unità nazionale Giovane Troppo giovane Per essere nel DNA Di ogni cittadino italiano Troppo giovane Come ricorrenza Istituita solo Nel novembre Del 2012 Dopo il successo Ottenuto Per le celebrazioni Dei 150 anni Dell'unità nazionale Nel 2011 Per essere vissuta Come una giornata Di orgoglio nazionale Questa mattina Sui media nazionali Ha avuto Più risalto La giornata mondiale Del sonno Che la giornata Dell'unità nazionale Ma l'amor di patria Dovrebbe prevalere Per fortuna Ci hanno pensato Le istituzioni A dare la dovuta Sottolineatura A questa giornata E così Come in altre parti Dell'Italico stivale La prefettura Di Pesero Urbino Ha degnamente Celebrato Questa giovane ricorrenza È stata istituita Da troppo poco tempo Perché Abbia Un'adeguata diffusione Nell'opinione pubblica Però Il compito Delle istituzioni Che noi rappresentiamo È proprio quello Nel tempo Di far Diffondere Sempre di più Questa ricorrenza E farne comprendere Il significato Soprattutto Alle giovani Generazioni Un concerto Dell'orchestra Di Fiati Del Conservatorio Rossini di Pesero Ed un allezio magistralis Del professor Riccardo Paolo Guccioni Sui moti carbonari E sulle vicende locali Di quel tumultuoso Periodo Che fu Il rinascimento italiano Alla presenza Naturalmente Delle massime cariche Civili Militari Della provincia E una sorta Rappresentanza Studentesca Ha composto Il nutrito E importante Programma Di questa mattinata Celebrativa Un nostro reporter Di strada Ci ha inviato Su Whatsapp Queste fotografie Che mostrano Alcuni cartelli stradali Completamente imbrattati Con della vernice Spray nera Secondo Il nostro segnalatore A finire nel mirino Di questo squilibrato Sono stati Quasi tutti i cartelli Stradali In località Torre San Marco Una frazione di Fratte Rosa E di Sant'Andrea di Suasa Nel comune di Mondavio Ora la speranza È che le forze dell'ordine Riescano a individuare L'autore di questi gesti Incivili E che oltre Ad una denuncia Gli facciano pagare Anche tutte le spese Per la pulizia O la sostituzione Dei cartelli Nuova vita Invece Per le rotatorie Fanesi Il comune Ha deciso Di affidarle Alla cura estetica Dei privati Dopo l'anno del dragone E quello dell'acquario Quest'anno Sarà quello Delle rotonde Parola di sindaco E così detto fatto Anche a Fano Chi vorrà prendersi cura Delle rotonde Della città Come verde E abbellimento pubblico Lo potrà fare Noi faremo due bandi Uno esce domani Abbiamo già deliberato In giunta Dove diamo la possibilità A imprenditori A soggetti Privati Di potersi gestire Delle rotatorie In cambio di informazione Pubblicitaria Da parte Dei soggetti Che interverranno E questo vale Per tutte le rotatorie Abbiamo escluso In questo bando Quattro rotatorie Dove vorremmo Dei progetti Più mirati Qui e su queste Abbiamo fatto Un concorso Di idee Andremo a scegliere Le migliori In quel caso Potremmo realizzare Direttamente noi Oppure anche questo Se c'è qualche Privato interessato Può farlo Direttamente Oltre che le rotonde Quest'anno È l'anno Del decoro pubblico Come detto in precedenza E quindi Terminata la scuola Di Lucrezia L'attenzione degli architetti Si sposterà Verso altri siti Cittadini Molto importanti In primisi I giardini di Piazza Miani E la possibile comparsa Della fontana Del maestro Vangi Che metterebbe Una sua opera A lustro Di questo angolo Della città E poi Piazza Costanzi E Corso Cavour Nell'intento Di prolungare La passeggiata Del centro Anche nel borgo Cittadino Dei Piatlet Ma questa Sarà un'altra Scommessa Dell'amministrazione Tutta da giocare Visto che i commercianti Della zona Hanno ben distintamente Manifestato In questi mesi La loro contrarietà Ad una pedonalizzazione Della strada Od una eventuale ZTL Italia-Polonia E la sfida Che si disputerà Fano Tra le nazionali Di calcio Amputati Saranno quattro giornate Intense ricche Di appuntamenti sportivi Quelle che vanno Dal 30 marzo Al 4 aprile prossimi L'associazione Amore per la vita Onlus In collaborazione Con CSI Nazionale Provinciale Ha in calendario Due incontri internazionali Di calcio Amputati A Fano Il primo aprile Presso lo stadio Mancini E a Pesaro Il due Allo stadio di Wismara Tra nazionale italiana E quella polacca Volevo invitare tutti Alla manifestazione Internazionale Che terremo A Fano Il primo di aprile Allo stadio Mancini Dalle nove Fino verso mezzogiorno Avremo Un bel programmino Ci saranno per la prima volta Coinvolti Dei ragazzi Under 16 Sarà una partita Successivamente Ci sarà una partita Internazionale Italia-Polonia E Il due di aprile La faremo A Pesaro Allo stadio di Wismara L'evento Sarà occasione Anche di incontri Paralleli e formativi Con l'obiettivo Di trasmettere Un messaggio Di integrazione E solidarietà Promuovendo L'accettazione Delle disabilità Per il superamento Degli stereotipi sociali Il 31 marzo Saremo nelle scuole A coinvolgere Tutti i ragazzi E a Far conoscere Questo mondo Della disabilità Che è un mondo Parallelo E per far capire Che comunque sia Nessuno Deve essere escluso Lo sport Come opportunità personale Per mettersi in gioco E scoprire Il valore Della diversità Vi aspettiamo Tutti i numerosi Cittadinanza Sia a Pesaro Che a Fano Uno dei membri È Lorenzo Marcantonio Le commedie In dialetto fanese Adesso con Il successo Della rassegna Cianfrusaglia Lunedì prossimo Tocca ai Comediant Con Canoli E Bignè Allora Siamo in una pasticceria Cosa che ha a che fare Comunque Con questo nuovo Allestimento Perché? Perché quest'anno I Comediant Mettono in scena Una commedia Proprio da pasticceria Canoli E Bignè Più pasticceria Di questa E quindi vedremo Una commedia Molto molto divertente Che circa 15 anni fa È stata scritta Da Augusto Spadoni Un po' Anche stato Il padre Di tanti attori Dialettali fanesi Scritta da Augusto Spadoni E Paola Maggi Abbiamo riproposto Questo lavoro Diretto da Marco Lucertini E poi tutti gli attori Della compagnia teatrale Voglio ringraziare In maniera Molto forte Perché sono tutti Molto molto bravi Quest'anno Diciamo Faccio la parte Diciamo Di un fotografo E Nicola È un farmacista Hai capito Dietro questo Io insomma Sono Vernareccio Praticamente Non sono sposato E c'è Una signora Che mi circuisce Mi vuole Insomma Fare su Fare su Fa di tutto Insomma Per venire con me Ecco E allora Alla fine Vedrete Molto brillante Il secondo tempo Scoppiettante Proprio Bellissimo Guarda c'è una bella collaborazione Quest'anno Che contraddistingue L'allestimento Quest'anno Ci siamo Voluti Un po' Andare un po' Oltre A quello che è Il puro divertimento Il puro Il lato culturale Un pochettino Siamo andati anche sul sociale Tant'è che abbiamo Avuto la possibilità Di incontrare Chi gestisce Il centro di San Lazzaro Il CTL San Lazzaro Insieme alla collaborazione Dell'ASCOP Che è la società cooperativa Sociale E appunto Sono qui con noi Ci spiegheranno Appunto Di cosa si tratta Così Ringrazio I Commediant Per la disponibilità E la sensibilità Che hanno mostrato Nel proporci Questa collaborazione Già dallo scorso anno Collaborazione Che nel tempo Si è concretizzata Tant'è vero Che quest'anno Non ci sembrava vero Quando ci hanno proposto Di realizzare Alcune parti Della scenografia E alcuni Alcuni oggetti Che andranno In scena Quindi Canoli e Bignè 20, 21 e 22 marzo Al Cinema Politeama Prevendita Già da venerdì Mi raccomando Accorrete numerosi Numerosi Canoli e Bignè Ok E adesso invece L'Unedi L'Unedi Sulla 7 Ci sarà un fanese Jeffrey Di Bartolomeo Un comico Del San Costanzo Show E sarà In televisione A livello nazionale Perché parteciperà A Eccezionale Veramente Il format Di Diego Batantuono Jeffrey Ti ho colto in fallo E che no C'è un giretto nel parco Un cagnolino A spasso Allora stasera Tutti davanti alla televisione Mannaggia No Non è stasera Perché Una volta che vado in televisione Sbagliano a scrivere nel giornale Ma No È lunedì Perché hanno spostato la trasmissione Invece di farla tutti i venerdì La fanno tutti i lunedì Ah ecco E quindi è lunedì Sempre sulla 7 Alle 21 Eccezionale veramente Guardate Poi vediamo Vedremo Non si può dire niente Con un mito Della nostra comicità Adesso un mito Sì sì insomma Farò un Un pezzo del repertorio Uno dei miei preferiti Con in commissione a Battantuono Ruffini La Lucarelli Una bella banda So con lupo Crepi Crepi Ciao 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 A presto Lunedì 21 La 7 Ciao E salta invece Il concerto Di Luciano Ligabue Il cantante annunciato Che dovrà operarsi Alle corde vocali Parliamoci chiaro Sentite come sono conciato Con la voce No Sì È così così Purtroppo Ho avuto una ricaduta E quindi Si sente Faccio molta fatica A gestire Proprio Il cantato Ecco Questa È la testimonianza Di poche sere fa Era il 14 Marzo Quindi la sera dopo il mio compleanno Durante il giorno Avevo sentito Che la voce Non usciva Dopo 3-4 pezzi Del concerto Ero quasi afono Così ho avuto bisogno Di farmi visitare Ovviamente Il giorno dopo E Mi hanno detto Una cosa Che avrei preferito Non sentirmi dire Ma che purtroppo Rientra fra Quelle che Vengono definite Le malattie professionali Di chi canta Cioè Ho un polipo In questo caso Intracordale Mi dicono Quindi Alla corda vocale Di sinistra Il che significa Una cosa molto semplice Il polipo Non ti permette Di poter cantare E quindi Io adesso Non posso cantare Devo fare Un intervento Che mi dicono Essere Abbastanza semplice Che però Richiede Qualche mese Di recupero Per la piena funzionalità Delle corde vocali Insomma Morale Ovviamente Io vengo da 17 concerti Fantastici In cui ho potuto vedere La gioia L'entusiasmo La passione Di tutti quanti Voi che c'eravate E adesso Mi tocca Spostare Fermare il tour In realtà Non lo fermiamo Perché come vi ho promesso Io quest'anno Vi vengo a trovare Casa per casa Ve l'avevo promesso A Monza Lo faremo C'è la mia agenzia Che sta Facendo Il Diavolo a 4 Ma vorrà fare Sì che questo tour Si svolga A settembre E ottobre Esattamente Negli stessi palazzetti Nelle stesse città Dove avete già preso i biglietti E quindi Io potrò mantenere Questa promessa Ma soprattutto potrò Continuare a godere Di quello di cui ho goduto Purtroppo Per un breve tempo Abbiamo fatto in tempo A fare 17 concerti Ho visto Vi ho visti bellissimi Vi ho visti Gioiosi Entusiasti Vi ho visti Più giovani del solito Cosa che mi ha fatto anche Oltre un po' di sorpresa Anche molto piacere Ecco Io voglio ripartire da questa idea Ho bisogno di un po' di mesi Per rimettermi in sella Ma lo farò E quindi Ci vediamo A settembre Per il tour Di Made in Italy E la data pesarese Verrà recuperata Nel mese di ottobre Ed è tutto Per l'informazione Domani mattina Alle 7.30 C'è la rassegna stampa In diretta Occhio e giornali Domani sera Alle 20.30 C'è 7 per occhio Con servizi anche del sabato Il numero che avete appena visto Invece è per le vostre segnalazioni Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie a tutti.